Eccoci alla seconda tappa del nostro viaggio, alla scoperta dell'offerta formativa di Galdus per il post diploma, settore, amministrazione e contabilità. Da più di dieci anni Galdus attiva ogni anno corsi di specializzazione in questo settore, in collaborazione con aziende leader e studi professionali. In questo corso potrai approfondire tutte le tematiche legate alla tenuta della contabilità, la stesura del bilancio, il controllo di gestione del budget, l'utilizzo di software gestionali, gli aspetti fiscali e tributari e modalità innovative di organizzazione aziendale quali la metodologia Lean. Ogni anno studi professionali e imprese inseriscono nel proprio organico giovani in uscita dai nostri corsi, apprezzandone la capacità di coniugare il rigore dei conti allo sguardo rivolto verso l'innovazione. Se vuoi conoscere tutti i dettagli dell'offerta formativa scrivici a orientamentochiocciolagaldus.it e richiedi un colloquio. Il nostro staff di esperti sarà in grado di aiutarti a capire se questa è la strada giusta per te. Quindi cosa stai aspettando? Scegli oggi il tuo futuro. Fallo con Galdus!